Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Magnus Continuiamo sempre la nostra avventura qui con Minecraft perché ho attuato alcuni piccoli cambiamenti Il primo cambiamento in pratica ho abbandonato il deserto perché in pratica non c'era una mazza cioè non riuscivo a fare praticamente niente però ho portato, che vi farò sicuramente vedere, un po' di robina infatti lì mi sono reso conto che ci sono alcune cose interessanti ho scavato, ho recuperato e poi siamo di nuovo ritornati nella casa ma è inutile naturalmente che mi perdo i chiacchiere vi faccio vedere dove siamo ritornati ok, siamo ritornati nella vecchia casa mi hanno traperdesi anche già attacchiato però ho fatto alcuni cambiamenti cioè cambiamenti, mi sto perfezionando piano piano aspetta che qua non ci abbiamo una mazza ah, naturalmente mi sono munito anche di ascia perché me l'avevate consigliato ascia di ferro abbiamo recuperato un po' di ferro e quindi questo è stato buono per la coltivazione non so se è una cosa buona fatta così in questo modo vabbè sicuramente poi cominceremo a fare qualcosa di meglio ma sicuramente mi vuole perversare anche per ciò che riguarda la fase che ne so, anche degli animali coltivare qua dentro se non sbaglio allora, sacca di chiostro perché l'abbiamo ammazzato il carbone con la pala proprio infatti ci ho becchiato 64 e 7 di pala e poi abbiamo preso il redstone che in pratica devo ancora capire bene come funziona ma da quello che ho capito è importante e poi udite udite due ringotti d'oro wow, la paletta proprio a raffica vabbè dai, niente di particolare a questo punto quindi mi munisco innanzitutto un po' di legna e poi volevo trasferire tipo magari sarebbe cosa buona di chiudere la porta allora, vediamo se questa cosa è questa è una pegora, ok ah, zitto mi sta seguendo ok, vediamo se mi segue per sempre perché ora non so come funziona la situazione oh, brava piccolina vieni mi stai sempre seguendo? bravo, ok bravo, ok che poi non so a questo punto quanto ne dobbiamo incastrare la casa sta là, eh vieni vai, vieni, vieni, baldagione vieni ehi e al 99% mi inganna dovrebbe stare qua ma figurarsi se oh, non sta qua oh, buonasera, hai visto? tu sì che sei una pecora fedele vieni, 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 vieni vieni, vieni 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 verso la... eh, vieni verso casa, eh non verso la morte ah, ok dovremmo anche fare attenzione perché qua in pratica ci dovrebbe stare qualcosa per aspetta qua abbiamo landesite pietra facciamo così, guarda così siamo anche un po' più ok ti metti qua dentro scusami, guarda guarda ti metti un attimo qua dentro brava ok fantastico sei ok ti blocco un attimo qua dentro così dovrebbe bastare, no? ti faccio anche la finestra non ti preoccupi ti lamentare non ti preoccupi aspetta non ti inserlo dentro aspetta ti faccio la porta di pietra ti piace la porta di pietra, no? aspetta ok vai così e vai così ok allora vediamo un po' se così almeno non rompire schiatole allora la porta te la faccio entro qua e non pensa che te ne scappi adesso non so a questo punto perché quando ho stracciato qua dovremmo realizzare tipo una porta qualcosa perché allora perfetto stai là dentro stai così vabbè dai ti ho fatto così dovrebbe andare bene perché ti ho fatto tipo effetto il problema è che riesco a entrare però poi come facciamo ad uscire c'è il problema dell'uscita allora devo capire dovrebbe esserci tipo fare tipo una porta perché così non riusciamo a uscire allora tu che ne so puoi fare qualche cosa tipo vabbè oh aspetta qua c'è la mucca mucca tu vieni se ok venite ciao ok quindi la mucca ce l'abbiamo ci sta seguendo ok vieni perfetto ok dobbiamo solamente capire dove sta casa allora se ti riesci anche a lanciarti qua dentro ti schianti dentro al cortile qua ecco aspetta vediamo un po' se riusciamo a farla schiantare qua dentro schianti qua dentro vai vieni vabbè bravo bravo schiantati qua dentro bravissima ragazzi siete i numeri uno ok ok bravi non riuscite anche neanche più a uscire vi prometto che vi farò una stalla molto più grande ok la casa sta là eh questa per qua quindi fatele brave e seguitemi non mi fate incazzare vai forza da questa parte dai che ce la facciamo ah qua è tutto rotto aspetta vediamo un po' qua ce la dovremmo fare venite queste due brave bravissime venite vai ok brave siete sempre il numero uno number one forza ok ci siamo quasi ci siamo quasi eh ragazzi sarà da chi vi porto dei clienti 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 venite qua dentro perfetto bravissime ok ora ve ne potete anche andare aspetta aspetta perché giustamente il grano se non lo possiamo mangiare aspetta aspetta vai forza perché forse probabilmente se mangiate ok ah ecco ecco che sento di aver sentito una voce più piccolina ah ok quindi se vi do la mangiare ok tu non vuoi mangiare tu tu hai già mangiato ok ok questa pure è già mangiato tu hai già mangiato ci sta anche la piccolina penso quindi una piccola oh guarda eccola e sta anche crescendo bravissima quindi hai mangiato sta crescendo e però così mi sento un po' mi sento un po' presso ragazze aspetta vediamo un po' ok ok quindi il primo cucciolo l'abbiamo fatto devo fare solamente un po' di smistamento perché diciamo che siete un pochettino affollate allora sicuramente cercherò di allargarvi da questa parte non qua sotto perché secondo me qua sotto vi attaccano andiamo a vedere come va il raccolto di grano ok questo lo possiamo anche becchiare fantastico ci becchiamo anche questo ci becchiamo anche questo ok col grano abbiamo anche parecchio penso che secondo me ci potremmo anche un pochettino più allargare ok forse è poco ferro che non sarebbe male poi magari se troviamo anche un po' di oro vai gettati ecco magari non in questo modo vabbè ormai è troppo tardi ok ammazza quanto è profondo ok allora qua è tutto carbone ok perfetto io avevo trovato qualcosa di buono di là secondo me vediamo un po' allora questo qua non ci sta ferro non ci sta niente cioè a parte carbone niente ok qua continuiamo col carbone allora c'era anche del tutto carbone qua eh sì diciamo così vada illuminiamo illuminiamo sento la lava eh illuminiamo ok allora questo dovrebbe essere il ferro ok vediamo un po' è infatti ok questo lo sto beccando perché a quanto pare dovrebbe servire una cifra vai non riesco ancora a salire ancora vai ok questo poi ce la becchiamo vai alla grande questo è tutto carbone allora mentre sempre beccare anche un po' di eh questo è nuovo perché questo non l'ho becchiato ancora che cosa aveva beccato lapislazzuli eh e questo ragazzi non so cosa sia eh quindi mi affido a voi qua eh ne ho beccati dagli altri ma non so se è roba v la roba che non sa serva una mazza o le solite cose eh decorative che spero di nuovo a questo punto eh di cose decorative le cose più belle diciamo quelle più colorate sono sempre quelle decorative vabbè ecco qua per esempio ce ne stanno degli altri altri due fantastico allora diciamo che facciamo così ok se si ottiene lo stesso secondo me non serva una mazza ok dai io direi che con tutto questo ferro dovremmo sicuramente riuscire a realizzare qualcosa voglio sapere che cosa serve questo lapislazzo se lo sapete l'amete fatemi sapere detto questo l'amete ragazzi come è stato il video come è stato il video come è stato per mettere un like il zoom per commenti un mi piace fatemi sapere la cosa e dopo spero come è stato il video mi piace se vi commentate se vi piace ci vediamo ci vediamo ci vediamo se vi piace bye bye